Si parla naturalmente di pesca e naturalmente il flag sulla pesca, il progetto sulla pesca della Costa d'Argento ha attinto ai finanziamenti europei come miglior progetto. Il progetto è un progetto che si stende un po' a tutto il territorio, non soltanto all'Argentario. C'è tutto questo territorio che ha partecipato a questa cosa e che si tratta di tutta la filiera della pesca, non soltanto la pesca ma tutto quello che è in qualche modo correlato, quindi la trasformazione, la divulgazione. È un bel progetto, il progetto ora viene fatto nel dettaglio e vediamo come questi soldi vengono spesi. Ripeto, c'è un finanziamento che adesso va messo in pratica e vanno spesi, ma vanno spesi bene. Questa è la prima cosa importante che bisogna fare. Questo porterà, sarà un indotto importante anche per il lavoro? Certo, questo milione e più che viene sul territorio sono soldi che bisogna investire, quindi è chiaro che qualcuno ci lavorerà e soprattutto deve moltiplicarsi. Questo deve essere un po' lo scopo del progetto. Non è un qualcosa, un'opera che noi realizziamo e rimane lì. Sono delle cose che vengono fatte per aumentare la produzione, quindi io mi aspetto un ritorno più ampio di quello del contributo stesso. Soddisfattissimi per l'operazione in cui noi abbiamo incominciato a credere ad aprile di quest'anno, in tempi non sospetti quando nessuno neanche forse di che cosa stavamo parlando. I bandi internazionali della comunità europea, questi fondi, siamo riusciti a intercettare attraverso questo flag i fondi del FEAMP con un progetto di circa 1 milione e 700 mila euro. L'argentario è capofila, io sono delegato alla pesca, ci ho lavorato tanto, giorno e notte, perché poi in queste cose ci si lavora giorno e notte, perché il giorno si fanno i contatti, ricordiamo che c'è Orbetello, c'è Capalbio, c'è Giglio, ci sono tutte le aziende di pesca e di notte si mette giù quello con cui si è lavorato di giorno. In questo devo ringraziare il nostro segretario comunale, il dottor Lucio Luzzetti, che è stato straordinario e mi ha dato una collaborazione incredibile, professionale, del suo livello. E anche il dottor Andrea Ponticelli, che è il nostro tecnico di fiducia, che ha fatto sì di presentare questo progetto, che ha dato, parlando di mare, di barche, ha dato 10 barche a tutti quanti, senza sì e veramente senza ma. Di questo ne siamo contentissimi, tanti fondi che arriveranno qui sul territorio, comunque il territorio poi condiviso con gli altri che hanno partecipato, ma anche questo è un altro grosso successo a cui dobbiamo mettere il punto e il segno e di cui ne sono anche ovviamente di questo molto orgoglioso. Anche perché sicuramente è una cosa, avete creato quello che tutti parlano in senso nazionale, le prospettive future di accumulare diversi comuni in un'area dove ciascuno fa il suo compito. Dico da sempre, sostengo da sempre che l'unione fa la forza. Sappiamo che la regione è una regione stoicamente, storicamente, voglio dire, di colore avverso comunque alle amministrazioni di centrodestra. Il centrodestra, diciamo, qui in Maremma è cresciuto con le ultime elezioni recenti e questo fa sì che la nostra voce, per poterla far sentire sempre più forte, c'è bisogno di unità. Il lavoro di sottodiplomazia è difficile, è stato mettere insieme i diversi interessi che ci sono, è normale che ci siano, ma propedeutica, proprio come hai detto te, ora forse per il comune unico no, però sicuramente la strada è quella, perché io dico sempre che il matrimonio è bene, la moglie scegliersela, prima che qualcuno dall'alto magari te la cala con un decreto e sei costretto a prenderla pure se non la vuoi. Questo progetto anche perché sicuramente si parla di forse di aumenti di lavoro e di occupazione. Sì, è un'occasione veramente importante, siamo molto soddisfatti che ci sia stata data questa possibilità. Dobbiamo dire che noi appena siamo entrati come amministrazione del comune di Orbetello abbiamo subito cercato, verificato se c'erano una serie di iniziative da questo punto di vista, poi abbiamo scoperto che il comune di Monte Argentario, che poi è il capolista di tutto il progetto, aveva già dato avvio alla progettazione e quindi ci siamo in qualche modo agganciati al comune di Monte Argentario. Siamo stati contenti di aver fatto questa scelta, per questo devo anche ringraziare il consigliere comunale Mittica che per il comune di Orbetello ha lavorato e ha seguito la procedura, in accordo chiaramente dietro l'amministrazione comunale di Monte Argentario che è stata quella chiaramente portatrice di tutta l'organizzazione e di tutta la progettazione. Il progetto ha vinto in funzione del fatto che la regione richiedeva una progettazione che comprendesse un territorio dove per esempio Orbetello è molto importante per l'acquicoltura. Sì, è chiaramente stata la collaborazione, è stato l'elemento principale, quindi questa anche vicinanza tra il comune di Orbetello, il comune di Monte Argentario e anche le aziende ha portato quindi a una progettazione, a un risultato molto importante. Devo dire che questo tra l'altro è un finanziamento molto molto importante, quindi noi siamo particolarmente soddisfatti perché è un ritorno importante non solo nel comune di Monte Argentario, nel comune di Orbetello, ma un ritorno anche a tutte quelle aziende che comunque operano su questo comprensorio. Un progetto importantissimo del quale siamo veramente orgogliosi non solo di far parte, ma del quale siamo orgogliosi di essere arrivati in prima fila. Noi come ufficio finanziamento europeo del comune di Orbetello abbiamo riattivato questa funzione di ricerca di fondi strutturali dopo anni in cui il comune di Orbetello è rimasto completamente dimenticato da questo settore, quindi appena entrati questo risultato per noi è importantissimo, essenziale, anche perché si tratta di riuscire ad investire con finanziamenti che vengono dall'Unione Europea a fondo perduto, quindi con finanziamenti al 100% su settori quali sono la pesca, il turismo sostenibile, che per noi oggi come oggi sono la principale risorsa di sviluppo. Noi siamo un comune che campa di agricoltura, turismo e pesca, quindi oggi come oggi avere la possibilità di avere un aiuto così tangibile da parte dell'Europa è per noi una fonte di sviluppo davvero importante. Siete riusciti a sopravvivere anche in un momento difficile come è stato l'anno scorso? Beh certo sì, veniamo da un anno veramente difficile, l'anno scorso c'è stata la più grossa moria dei pesci che il comune di Orbetello abbia mai vissuto, anche in quest'ottica poter come comune essere non solo vicino al settore della pesca ma anche essere parte integrante di questo sviluppo è veramente una cosa per noi molto importante e essenziale. Tra le altre cose il flag in questione, il flag vostro argento, era un'opportunità che era stata sfuggita, che era sfuggita a questo comune l'anno scorso, quindi noi siamo riusciti a riprendere Line Extremis e quindi a ragganciarci a questa opportunità anche grazie al comune Montagentario che si è proposto capofila, quindi ha portato avanti il processo e quindi è davvero una grande occasione importante da coltivare anche nell'ottica futura. Quali sono le problematiche più importanti per quanto riguarda la pesca? Per preservare la pesca nel tempo, non esagerare in alcuni momenti, come è stato negli ultimi anni? I nostri stock grazie a sforzi passati sono abbastanza in equilibrio e questo ce lo certifica la regione toscana, quindi vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro sulla sostenibilità ambientale riducendo in maniera volontaria lo sforzo di pesca. Speriamo che ciò duri, dipende da noi ma non solo, i fattori più critici della pesca sono proprio i fattori esogeni, quindi il caro gasolio, le leggi che ci vengono poi imposte dalla comunità europea. Noi cerchiamo di far bene la nostra parte, quindi produrre bene e commercializzare creando valore attraverso la freschezza e la bontà del prodotto. La qualità del prodotto, perché? Nessuno ha mai contestato la qualità del mare che è vicino a Porto Santo Stefano, Porto Ercole, eccetera. Noi, indipendentemente dalla bellezza. Ecco, in questo specchio di mare non è mai stata contestata questo tipo di qualità. Ma grazie a Dio qui è un lavoro che non dipende da noi, ma il buon Dio ci ha dato una costa meravigliosa, un fondale molto variegato e anche se è rotta comunque commerciale per alcune imbarcazioni, il nostro mare è incontaminato, le bandiere blu che vinciamo ogni anno, sono foriere di un ecosistema in buono stato e ovviamente quando un ecosistema in buono stato produce dei buoni prodotti e la qualità dei nostri pesci anche a livello di analisi è sicuramente, soprattutto quella toscana, è sicuramente superiore a molte altre in giro per l'Europa. Questo progetto proseguirà in che modo? Ora, dopo che la Regione Toscana ha segnato, fortunatamente siamo ben primi in graduatoria, bisognerà mettersi a sedere tutti quelli che sono in realtà interessate, quindi dai comuni alla parte associazionistica, al terzo settore, al settore della pesca e della cultura, che sono i trenanti, per fare una progettualità, per sviluppare, perché abbiamo già presentato quelle che sono le progettualità di medio e lungo periodo, affinché questa parte importante della società non solo viva, ma progredisca e faccia progredire anche tutta quella che è la filiera ittica, ma non solo, anche la filiera di terze parti che possono introdursi all'interno di quello che è il nostro mondo. Siamo un pochino, siamo rimasti un po' fortunatamente legate alla tradizione, quindi artigianali, però lo sviluppo futuro è di una filiera che si chiama agroindustriale, cioè nel senso che vada non a inficiare la qualità del nostro pesce, del nostro mare, ma che vada a migliorare la presentazione del prodotto verso il cliente finale, che è sempre meno incline a lavorare il pesce a casa, a mangiare il pesce a casa, perché ci sono enormi difficoltà a fare questo, è sempre più incline a avere un prodotto garantito, di filiera corta, ma facilmente consumabile. E il pesce in questo ci aiuta molto, perché è di qualità e noi, attraverso la nostra tradizione, ne possiamo trasformare affinché il consumatore ne possa godere appieno tutti i benefici anche salutari. Ci sarà la possibilità di dare qualche posto di lavoro in più con questo progetto? Ma l'investimento che porta sul territorio, perché poi il territorio non è ampissimo, ma è quello della costa d'argento, basilarmente l'investimento a ricadere su questa zona è un investimento importante, perché comunque si parla di 1.300.000 euro su una zona importante per la pesca, ma di numero di persone come abitanti abbastanza limitato, fa sì che questo tipo di investimento porterà diversi posti di lavoro. Se poi sarà moltiplicato bene, come lo auguriamo, e sarà sostenuto dallo sviluppo, per esempio, anche a Mare dell'Aquacultura, che è un bacino enorme, lì allora si parlerà di qualche centinaio di posti di lavoro, che per la nostra comunità non sarebbe per niente male. Si parte sempre da un progetto, un progetto comune, composto da vari elementi. L'iticoltura è uno degli elementi fondamentali, anche non solo per quello che può dare anche al mondo del lavoro. Assolutamente, l'acquacultura è una delle attività del futuro e noi qui a Orbetello siamo riusciti a creare un'acquacultura che ha un peso estremamente importante, sia a livello regionale che nazionale, e come qualità anche a livello europeo. Senta, che cosa può succedere con questo progetto quando verrà messo in esecuzione? Questo non è realmente un progetto, questo è la creazione di un GAC, un gruppo di azione costiera. È un qualche cosa che vuole la comunità europea, è un'aggregazione di soggetti, soprattutto nel campo della pesca e dell'acquacultura, e viene realizzato un qualche cosa da tutto l'insieme delle persone che agiscono sul territorio per lo sviluppo della pesca e dell'acquacultura. Noi oggi abbiamo vinto un bando regionale, per cui ci siamo aggiudicati, visto che il nostro territorio, tra Orbetello e Monte Argentario, è boccato all'attività di pesca e di acquacultura, ci siamo aggiudicati il primo posto per la realizzazione di questi GAC. Adesso viene il bello, perché adesso dovremo realizzare i progetti finanziati, che ancora non sono in campo, per lo sviluppo della pesca e dell'acquacultura in sinergia con chi? Con le nostre amministrazioni e tutti i soggetti che sul territorio lavorano. Ci può descrivere brevemente qual è il mondo dell'acquacultura? Ma io lo distingue in due parole. Oggi nel mondo si consuma più pesce di acquacultura che non prodotto di pesca. Nel 2050, oltre l'85% del prodotto di pesca arriverà dall'acquacultura. Cioè, se vogliamo mangiare un pesce, sarà di acquacultura. Siamo in un momento di transizione. Quello che è già successo con le carni, lei va in macelleria oggi e non pensa di chiedere un chilo di carne, ma mi raccomando che sia di vacca selvati o sia di... No, lei chiede la carne allevata. E la stessa cosa sta succedendo nel mare. Il mare è sovrasfruttato, continuerà a dare quella quota che siamo abituati ad avere, ma è una quota ridotta, è poca. E soltanto l'acquacultura può formare il gap tra la richiesta di un mondo che vuole sempre più prodotti ittici e una produzione che non riesce a soddisfare la richiesta. Senta, lei che è vicepresidente europeo degli itticoltori, come la situazione dell'Italia? Allora, è triste dirlo perché l'Italia fino agli anni 90 era uno dei principali artefici del settore acquacultura. Da allora in poi però qualche cosa si è bloccato, non siamo stati capaci, per mancanza, soprattutto dovuta alla burocrazia, non si è capito quanto è importante l'acquacultura, quanto è strategica per un paese. L'abbiamo un po' abbandonata, anche se poi l'acquacultura ad Orbetello è l'immagine del territorio, è l'immagine del paese che gira, perché chiunque di Orbetello vada in qualsiasi territorio italiano si accorge di quanto si è apprezzato il prodotto di Orbetello sul territorio nazionale. Si può dire un progetto nato dalla mente di più persone oppure c'è stato un input iniziale? No, è nato sicuramente dalla mente di più persone. Devo dire che è proprio nella filosofia di questo tipo di progetti, perché questi progetti cercano di portare sul territorio i nuovi finanziamenti europei non decisi dalla burocrazia centralizzata, ma decisi a livello territoriale. Quindi vengono individuate praticamente delle zone di pesca e acquacultura che hanno proprio le caratteristiche intrinseche della zona dove si pratica la pesca e l'acquacultura, spesso zone che sono in declino di queste attività perché, come ben si sa, la pesca in mare dà sempre meno risultati, però dove c'è una forte tradizione nel campo della pesca e dell'acquacultura. Allora si cerca di, questa è un po' la politica dell'Unione Europea, di delegare la scelta del tipo di azioni proprio ai territori. Ecco, nel caso in specie circa due anni fa abbiamo attivato con il comune di Orbetello, di Montargentario, di Capalbio, di Isorio del Giglio una collaborazione per vedere se si poteva, una volta usciti i bandi, accedere a questa forma di contribuzione. E devo dire, il risultato è stato molto valido perché nel partenariato del FLAG Gruppo Azione Costiera a Costa d'Argento sono presenti un po' tutti i portatori di interessi locali, dalle locali proloco, ai pescatori, gli impianti d'acquacultura, gli impianti di lavorazione, quindi veramente un partenariato molto completo che ha potuto decidere dove indirizzare i finanziamenti che poi saranno direttamente gestiti a livello locale. A livello mondiale il consumo dei prodotti ittici è in costante aumento, questo sia nei paesi meno sviluppati sia nei paesi a più alto reddito, quali sono i paesi occidentali. La pesca non può più superare i livelli di produzione che ha raggiunto attualmente, cioè siamo già oltre quel limite, si sta già sovrasfruttando il mare. La politica generale a livello mondiale e anche dell'Unione Europea è quella di riconvertire buona parte delle produzioni verso proprio il settore dell'anticoltura. Considerate che è previsto negli anni, da adesso, dal 2006 al 2030, che le produzioni dell'acquacultura possano addirittura duplicare. Siamo qua in una zona che può insegnare molto, perché lei considera che gli impianti di acquacultura dell'area di questo gruppo di azione costiera rappresentano circa il 15% della produzione nazionale, quindi è un'autentica eccellenza del territorio. A livello toscano sono oltre il 50% della produzione di acquacultura viene dalla zona della Laguna d'Orbetella e degli impianti intensivi collegati. Quindi è un'occasione anche per questi progetti e anche per poter riconvertire i pescatori verso questa attività di acquacultura e verso soprattutto l'aumento del valore aggiunto, perché se vogliamo lasciare qualche soldo in più ai pescatori dobbiamo pensare di aumentare il valore aggiunto, quindi con la piccola lavorazione a livello familiare, la vendita diretta del prodotto che può spuntare per il pescatore dei prezzi maggiori. Questo è il fondamento del nostro progetto. Quanto sono importanti i pescatori per la Laguna d'Orbetella? Se si prende proprio delle pubblicazioni scientifiche di carattere biologico, ma anche di carattere ambientale, troverete sempre e comunque in tutti i testi del mondo citato alla Laguna d'Orbetello, perché nel 1800 già allora c'era una gestione di questa risorsa naturale, di questa risorsa ambientale. È veramente la storia, quindi sono loro che possono, secondo me, insegnare molto anche a noi biologi.